Il partito di Noi con l'Italia non ci sta e chiede le scuse, oltre ad un dialogo più intenso, al sindaco Giorgino dopo il rimescolamento delle carte nella nuova giunta comunale assieme all'allontanamento dell'ormai ex assessore Forlano, segretaria cittadina del movimento di centrodestra. Lo stesso partito, tuttavia, non ha intenzione di uscire dalla maggioranza stessa, pur non avendo più rappresentanti in consiglio comunale, ma pensa già al dopo Giorgino, essendo al lavoro per quello che dovrà essere il nuovo governo cittadino a partire dal 2020. Fare sindaco non è facile, si fanno delle scelte, ora lui ha fatto delle scelte che noi non condividiamo, ciò per questo non significa puntare il dito, assolutamente, noi auspichiamo e siamo anche certi che nei prossimi giorni tutte le questioni amministrative complicate di questa città da un punto di vista finanziario possano essere dissipate e ancora di più risolte. Dopodiché, se il sindaco riterrà come figura di sindaco di avvalersi delle persone, della storia, della professionalità e di questa parte di elettorato della città che noi rappresentiamo come noi con l'Italia, come sempre abbiamo fatto nel corso degli anni, non abbiamo difficoltà a rispondere. Se riterrà che noi non siamo utili alla causa, non saremo utili alla causa per lui, ma saremo sicuramente utili alla causa della città di Andria. È quanto hanno voluto ribadire i rappresentanti regionali, provinciali e comunali di noi con l'Italia durante un incontro con la stampa, in cui principale tema è stata proprio la mancata comunicazione con Nicola Giorgino, oltre che la rimozione senza spiegazioni particolari di Maria Teresa Forlano. Lo stesso ex assessore ha voluto sciorinare tutta l'attività svolta in questo anno di lavoro, sia proprio nel campo della promozione territoriale che in quello delle attività produttive, rispedendo al mittente eventuali idee di incompetenza nel merito dei provvedimenti. Di contro il segretario provinciale del partito, l'onorevole Benedetto Fucci, ha specificato come tante siano state le anomalie nei rapporti con il sindaco, anche se noi con l'Italia resterà sempre coerente ed aperta al dialogo nell'ambito di una amministrazione di centrodestra. Ciò che ci ha offeso e il modo con cui il sindaco ha rimosso la nostra assessora, l'avvocato Forlano, è la mancanza di dialogo che ormai dura da parecchio tempo con il nostro partito, ma credo anche con le altre forze politiche perché, a quanto leggo, non c'è una condivisione di percorso. In politica abbiamo concorso tutti in maniera sostanziale alla vittoria, sì di Giorgino, ma la vittoria del centrodestra, un centrodestra che si era proposto agli elettori con un suo progetto, con sue iniziative, con sue finalità. Vedersi esclusi dalla condivisione di un percorso da farsi, da riunioni in cui si illustrano, si evidenziano i pro e i contro di una qualsivoglia iniziativa, beh, questo ci ha veramente offesi. Questa è la parte, il modo di comportarsi, il modus vivendi del sindaco e di coloro che a lui sono vicini, che ci ha un po' offesi. Offesi, ma questo non significa che noi stiamo rivedendo la nostra collocazione e quant'altro. Grazie.